Buongiorno a tutti, oggi presentiamo il modulo WORP di OPK Suite Dimension Software, il modulo a cui compete il compito di proiettare le immagini a suolo. È un modulo prettamente computativo con un minimo livello di iterazione. I passaggi principali sono quelli di associazione del DEM in formato geotiff, associazione delle immagini e associazione dei parametri di orientamento esterno. Il software presenta i footprint, quindi i contorni delle immagini a suolo, successivamente si assegna il ground sample distance di proiezione e si assegna l'ordine di presentazione delle bande RGB alpha. A questo punto il calcolo può partire, il software presenta con una colorazione magenta le immagini in corso di lavorazione e di colori verde le immagini che sono state proiettate. In ultimo viene presentato un report di calcolo in cui è possibile vedere tutti i passaggi delle iterazioni che sono state effettuate dal calcolo stesso. Con questo si chiude il modulo OBK WORP. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.